L'UO 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 Attratta dai luoghi che più risuonano di energie arcane, questa creatura ha una tale sete di magia che solo il più potente e paziente degli eroi può sperare di domarla. Qualunque pericolo dobbiate affrontare, Zampa Radiosa resterà sempre al vostro fianco. Più o meno. Mascotte Zampa Radiosa per World of Warcraft